Sono proprio una che non le interessa apparire foto, cioè io sono proprio l'opposto. Sono Monica, ho 24 anni e vengo da Roma. Segni particolari, non ho social. Mi sono laureata in Economia e Management. Lavoro in una società di gestione di immobili industriali che ho ereditato da mio padre. Quindi il tempo per divertimenti stesso non c'è perché responsabilità più grandi o scadenze più pressanti. Alla fine tutta l'adolescenza me la sono passata fidanzata. Era inconcepibile vivere senza un ragazzo. Quindi ora mi devo recuperare tutti quegli anni. Mi sono resa conto che adesso come tipo di ragazzo mi piacciono gli ipocentrici. Il che è molto preoccupante. Mi piacciono più ambiziosi, in gamba, sicuri di sé. Ho scelto di partecipare a Love Island perché questa è un'occasione bellissima per poter prendere del tempo per me e proprio dire addio a tutti per un mese intero. È anche un'occasione per poter finalmente pensare a me stessa, per non avere distrazioni. E poi se trovo l'amore, cioè non male ovviamente. E poi se trovo l'amore.